Villa Mariani, da quanto tempo è patrimonio della sua famiglia? La mia famiglia ha acquisito questa proprietà nel febbraio del 1997. E da quel momento non avete più avuto pace? È corretto dire così? Purtroppo, praticamente dal 1998 sono subito iniziati i primi problemi. E che cosa è successo? Ci può raccontare un po' questa vicenda che ha dell'incredibile? Allora, già nel 1998 abbiamo avuto una multa di quasi un miliardo di vecchie lire. Fortunatamente poi questa multa da parte dell'Agenzia delle Entrate si è risolta perché poi abbiamo avuto ragione nei tre gradi di giudizio. Per quale motivo una multa dell'Agenzia delle Entrate? Perché questo bene era stato venduto prima dei cinque anni. Siccome aveva il vincolo artistico, il vecchio proprietario poteva venderlo solo dopo cinque anni, avendo usufruito di alcune egevolazioni. Quindi c'era appunto questo vincolo che non era stato rispettato e quindi l'Agenzia delle Entrate ha dato questa multa. E poi nel 1998 è successo qualcos'altro? Nel 1998 abbiamo avuto la revoca di tutte le linee di credito, sempre da parte di una nota banca, che però fortunatamente abbiamo risolto. Ma perché si sono scatenati gli appetiti su questa villa? Che tra l'altro avete fatto anche richiesta che diventi patrimonio dell'umanità, è così? Allora, noi adesso stiamo predisponendo tutta una serie di documentazioni perché chiederemo all'UNESCO di diventare patrimonio dell'umanità. Perché questa villa, non certo per merito mio, è una delle poche case d'artista, parliamo di pettori dell'Ottocento, sopravvissuta a livello mondiale e l'atelier dell'artista è uno dei più importanti al mondo ancora esistenti nella sua totale integrità. Tra l'altro qua siamo accanto agli olivi di Monet. Allora, in questo parco, prima ancora che arrivasse il pittore Pompeo Mariani, è venuto Claude Monet e in questo parco ha dipinto tre suoi capolavori. Qua ne vediamo due, uno è questo, che è la veduta del campanile della vecchia Bordighera, e questi due olivi che lui ha dipinto nel 1864. Poi da un altro punto ha dipinto la veduta di Ventimiglia. Cioè in questo giardino ci sono stati praticamente due incontri virtuali tra un grande pittore impressionista francese che è Claude Monet e Pompeo Mariani. E dunque, questa villa, una villa di pregio, che cosa è successo poi? Allora, in un primo tempo si pensava di trasformare questa villa e questo giardino, la villa in monobitri locali e il giardino in posti auto. E chi è che avrebbe voluto fare questo? C'era un imprenditore di Bordighera che si era interessato a questa operazione speculativa proprio perché la posizione qua è fantastica. Quindi voi avete avuto questi problemi con la banca e praticamente l'intento finale era quello che il bene venisse messo all'asta affinché questo imprenditore potesse appropriarsene. Allora, questo bene è andato all'asta nel 2012. Siamo riusciti poi ad evitare l'asta pagando, facendo la conversione del pioneramento, pagando per 18 mesi 62 mila euro al mese, totale 1 milione e 300 mila euro e la villa si è salvata. La villa è andata all'asta perché all'interno di questa vicenda c'è un'altra vicenda a dir poco incredibile, quella del cavo. Allora, noi, la mia famiglia, avevamo un cavo presso la banca Anton Veneta che poi è diventata Montepaschi e in questo cavo c'erano diversi beni, tra cui un'opera di Degas e quando siamo riusciti ad entrare in questo cavo questi beni non c'erano più. La banca ci ha impedito di entrare nel cavo perché, a detta della banca, noi avevamo un debito con la banca e che finché non avevamo saldato questo debito non potevamo entrare nel cavo per un vincolo che c'è proprio sul contratto della banca. Poi però sono intervenute le forze dell'ordine e a quel punto il cavo era vuoto. Allora, quando siamo riusciti ad entrare purtroppo non c'era più nulla. Ma il cavo era danneggiato in qualche modo? Se si consultano gli altri della procura risulta che c'è stato un accesso della banca, senza informarci, in un primo tempo e il perito che era stato incaricato di accedere dice di non ricordare se questo accesso è stato fatto forzoso o con l'apertura con le chiavi. Quindi in teoria avevano un'altra chiave. Poi c'è stato un secondo accesso dove appunto si dice agli altri che è stato chiamato un fabbro e questo fabbro ha forzato il cavo. Quindi c'è un po' di discrepanza tra quello che dice il perito e quello, cioè praticamente c'è stato un primo accesso e poi non si capisce come mai c'è stato un secondo accesso invece che risulta forzoso. Allora il problema del furto è stato archiviato per ben due volte dalla procura di Imperia. Noi abbiamo fatto appunto opposizione per ben due volte, però per ben due volte la cosa è stata archiviata perché nelle indagini della procura si è, si dichiara proprio che purtroppo non sono stati individuati i responsabili del furto, anche se ci sono state delle grosse anomalie da parte della stessa banca nella procedura appunto dell'apertura del cavo eccetera. Non c'erano neppure videoregistrazioni? Le videoregistrazioni a quanto pare erano state distrutte perché era passato troppo tempo da quando, io adesso non entro nel merito, però se andate a consultare gli atti la procura dice che ci sono state delle gravi anomalie in questa procedura che però purtroppo i responsabili non si sono identificati. Non sarà possibile identificare? Ah io questo non lo so, tra parentesi io credo che il reato tra un anno e mezzo e due vada in prescrizione. Allora in quel cavo c'erano 20 chili d'oro, c'era un'opera di Degas e dei gioielli molto importanti di mia madre tra cui uno smeraldo di 100 carati. Il privarci del contenuto del cavo ci ha creato un grosso danno e lo si è visto perché per riuscire poi a pagare la conversione del pignoramento abbiamo dovuto svendere parecchie opere importanti dell'artista di Pompeo Mariani e voi mi insegnate che è un conto è vendere l'oro, l'oro praticamente si vende in giornata subito, è un conto invece è vendere i quadri, ci vuole molto più tempo e quindi per riuscirli a vendere abbiamo dovuto svendere, cioè quadri che valevano 100-150 mila euro venduti a 30-40 mila euro. Anche perché il circuito dell'arte poi credo sia un circuito che quando si sa che non difficoltà... Si era diffusa la notizia che noi eravamo in forte difficoltà e quindi questa forte difficoltà ha fatto sì che i compratori tirassero sul prezzo e noi purtroppo per non perdere la villa abbiamo deciso di svendere alcuni beni perché perdere la villa però sarebbe significata la fine perché per la mia famiglia questa villa è la vita. Quindi la villa è andata all'asta. È andata all'asta, poi come dicevo siamo riusciti ad evitare l'asta e abbiamo pagato il nostro debito. Poi il Tribunale di Imperia ha riconosciuto che questo debito in verità non era dovuto in toto ma ci sono stati restituiti parecchi denari. Perché hanno riconosciuto che voi siete stati vittima di usura, è così? Sì, sì. Allora la stessa banca in sede proprio di conversione del prioramento ha ammesso che i conti non erano del tutto giusti e quindi ha riconosciuto che una parte di questi soldi dovevano essere restituiti. Una vicenda giudiziaria lunga, parte nel 2012 e quando si conclude si è conclusa? No, allora la vicenda in verità non si è ancora conclusa perché noi abbiamo fatto tutta una serie di ricorsi proprio per quanto riguarda il relato dell'usura, per quanto riguarda il furto, il discorso del furto al cavò è andato purtroppo anche lui archiviato, però stiamo predisponendo una causa civile contro la banca per il risarcimento del danno subito. E adesso questa villa si può dire al sicuro? Ma diciamo di sì, se non sorgeranno altri problemi. Adesso noi abbiamo parecchi visitatori che vengono soprattutto dall'estero perché come vi dicevo prima, se andate sul sito del nostro ministero, del MIBAT vi dice che questa villa con il suo atelier è una delle case d'artista più importanti al mondo ancora esistenti nella sua totale integrità. I riflettori del ministero sono accesi su questa villa ma le istituzioni locali invece? Allora purtroppo con un po' di ramarico devo dire che in questi 20 anni, perché noi praticamente è 20 anni che lottiamo, da parte delle istituzioni della provincia di Imperia non abbiamo avuto una particolare attenzione. Io parlo della provincia, parlo anche un po' anche della regione che non si è mai occupata secondo me in modo doveroso di questa struttura e anche purtroppo anche dei sindici che si sono succeduti qua a Bordighera che non hanno mai un po' sposato la nostra causa, perché ci sono apparsi parecchi articoli su tutti i giornali e solide d'età ne abbiamo avuto sempre molto poche. Possiamo dire che in questo caso lo Stato è stato assente? Allora, preciserei questo, lo Stato in quanto Stato direi di no perché lo Stato, parliamo soprattutto del ministero, ci è stato accanto in tutto e per tutto, infatti ha vincolato parecchi di questi beni, ha vincolato il contenuto della villa, il contenuto dell'atelier, considerato inalienabile e questo ha preservato questo luogo. Purtroppo diciamo sono venuto un po' a mancare le istituzioni locali. Con tutti questi vincoli come pensavano di poter utilizzare questa villa per fare degli appartamenti? Beh io questo sinceramente non riesco a spiegarmelo, è una cosa abbastanza assurda. Il discorso che poi strada facendo penso che ci si sia accorti che questo bene è talmente importante, tale da ricevere importanti finanziamenti europei perché una struttura del genere avrebbe bisogno appunto di questi finanziamenti per poter progredire e diventare un polo di rilevanza mondiale. E di quanti soldi parliamo? E si parla dai 200-300 mila euro fino a diversi milioni di euro. All'anno. La vicenda di Villa Mariani da un memoriale di un condannato per Andrangheta sembra legata alla mafia e alla massoneria. Beh agli altri appunto c'è questa lettera che un pentito di Andrangheta Castellana fa alla procura della Repubblica d'Imperio dicendo appunto che esisteva un piano predisposto per fare in modo che Villa Mariani fosse venduta all'asta. Grazie. 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 Grazie.